Buonasera e ben ritornati a Millibar Parliamo questa sera da Termoli insieme ai nostri ospiti di crisi Una crisi che sta coinvolgendo in realtà tutto il mondo da anni Ma che si è accentuata particolarmente negli ultimi tempi qui a Termoli Basta fare una passeggiata lungo il corso nazionale Per vedere quelle che erano storiche attività aperte lungo il corso Ormai tristemente chiuse Tutto questo si inserisce in un contesto regionale, in un contesto amministrativo locale Che a nostro giudizio purtroppo anziché essere parte della soluzione Stanno diventando parte del problema Con chi ne parliamo questa sera? Ne parliamo insieme a Liberato Russo che è il segretario regionale della Casa Artigiani Molise Se nonché Vice Presidente della Camera di Commercio Benvenuto a Millibar Ne parliamo insieme ad Antonio Mautone Che è uno storico rappresentante dei commercianti di Termoli Insieme a me Antonio D'Ambrosio che ha oltre al ruolo di opinionista questa sera Anche il ruolo di uno che ha competenze specifiche in questo settore Parleremo quindi di crisi nel mondo dell'artigianato, del commercio e anche dell'industria Il titolo della trasmissione è C'era una volta Termoli Perché una volta Termoli c'era ed era il motore dello sviluppo molisano Un punto di attrazione per moltissime persone che a Termoli venivano E a cui facevano riferimento per numerosissime attività Le cose non stanno purtroppo più così Come di consueto però guardiamo la scheda introduttiva di Millibar Prima di iniziare la nostra conversazione con gli ospiti Hello darkness my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping And the vision that was planted in my brain Still remains Within the sound of silence In restless dreams I walked alone C'era una volta lungo il corso nazionale a Termoli e non c'è più Un negozio con la scritta Lucrezia In quel posto hanno trovato un vestitino, un cappotto, un paio di pantaloni corti, un cappellino Una sciarpa e una maglietta, centinaia di bambini Sono soprattutto i bambini nati nel decennio dei sessanta e in tutti gli anni settanta In quel negozio, preso ad emblema della Termoli che c'era e che non c'è più Si muovevano con la grazia e l'eleganza di un tempo un'anziana signora insieme alla figlia Diventata poi anche lei anziana in quel negozio Il commercio, come l'artigianato, prima vivevano e si trasmettevano di padre in figlio Alimentavano e si alimentavano di un circuito virtuoso che metteva in circolo beni, saperi, risorse Che hanno consentito a migliaia di uomini e donne di vivere con dignità e benessere Il corso nazionale di Termoli un tempo era anche il luogo dove convergevano per fare acquisti le famiglie Provenienti dai paesi vicini alla cittadina adriatica A Termoli un tempo non solo c'erano i supermercati che nei piccoli paesi non esistevano Ma al luogo di vera e propria meraviglia per genitori e bambini A Termoli esistevano i grandi magazzini, l'UPIM e la standa Oggi, al posto dove sorgeva un giorno la standa, c'è un locale vuoto, chiuso e spento Il dramma dei negozi che chiudono, delle attività che si fermano, delle risorse che svaniscono Si unisce spesso anche ad una rappresentazione visiva che porta al culmine della tristezza Oltre che alla disperazione, gli uomini e le donne, le famiglie e i lavoratori Stritolati da una crisi globale che ha travolto ogni angolo del pianeta Resistono solo i grandi, mentre i piccoli soccombono E Termoli non fa eccezione, inseriti in una regione, il Molise, incapace di progettare e cercare vie d'uscita Il livello in gran parte miserrimo degli amministratori regionali Unito ad una classe dirigente locale anch'essa in larga parte Composta da personale mediocre, impreparato e peggio ancora incapace Sta determinando un processo di estinzione di ciò che ha rappresentato per Termoli L'architrave del proprio sviluppo, il commercio e l'artigianato Al generale De Clino si è aggiunta la crisi del settore industriale Fatta eccezione per l'insediamento automobilistico Il nucleo industriale comincia ad essere popolato da molti, troppi fantasmi Quello dello zuccherificio è, drammaticamente, lo spettro più illustre Allora che fare? Da dove cominciare? Come invertire la tendenza? Come trasformare in un canto nuovo quella che sembra essere L'inevitabile canzone del silenzio e del commiato? Bene, la scheda che abbiamo appena visto mette tristezza un po' per le parole Un po' anche per la meravigliosa canzone di Simon e Garfunkel Ma soprattutto mette tristezza per le immagini che propone, che ha proposto E che tutti quanti avete visto da casa Il pezzo, la copertina si apre con il nome di un negozio Lo facciamo perché oramai non esiste più Lucrezia dove si sono vestiti tanti bambini Tra quei bambini negli anni 60 e 70 C'è stato anche il sottoscritto Quindi ricordo bene cosa fosse Termoli e che cosa Purtroppo non è più Antonio D'Ambrosio Cominciamo con Smantellare una leggenda metropolitana Che circola nel Molise Quello dell'aumento del PIL Ti chiedo un intervento ovviamente sul tema generale della scheda Quindi la crisi di Termoli, l'artigianato, l'industria, il commercio Ma soprattutto una tua interpretazione di questa leggenda metropolitana Del PIL che cresce, come racconta il presidente Frattura Che probabilmente cresce per via di un paio di grandissime industrie Però a discapito di tutto il resto che fa la fame Sì, di vedere Termoli in queste condizioni Fotografarla, filmarla, ascoltare le parole della tua introduzione La musica mi ha preso un po' lo stomaco Di tristezza, per la tristezza Mai avrei immaginato nel mio percorso di vita Di vedere questo abbassamento di livello Socio-economico che sta attraversando Termoli E credo che non ci se ne renda conto Come classe dirigente Non tutti hanno le stesse responsabilità Ma non ci si rende conto Proprio perché lo stesso presidente della giunta regionale Ha enfatizzato un dato, oggettivamente Un dato positivo in generale della regione Però mi è sembrato più propaganda Che capire la realtà della nostra regione Del nostro territorio Perché il Mezzogiorno d'Italia è cresciuto oggettivamente Lo dice la Banca d'Italia nel 2016 Lo dicono lo Svime Se lo dicono tutti gli istituti di ricerca Oggettivamente ed è cresciuto inaspettatamente Del 2,9% rispetto alla media nazionale Che si è attestata allo 0,8-0,9 Trainato a questa ripresa economica Il Bruzzo e la Basilicata addirittura Che ha ancora un trend ancora maggiore e superiore Però questa crescita Che è un dato macroeconomico all'interno del complesso Addirittura è preoccupante sotto certi aspetti Perché se noi entriamo nel merito della crescita Vediamo che ci sono stati tre settori in generale Che sono andati bene nel 2016 per il Mezzogiorno Una buona annata agraria Che ha fatto sì che si è mantenuto anche il costo Il prezzo del grano e la quantità Quindi è una buona quantità e un buon prezzo In agricoltura quindi Che è un settore molto importante Da tenere d'occhio Perché potrebbe rappresentare una prospettiva Anche per la nostra regione L'altro aspetto è finito Si è speso tutti i sfondi della comunità europea Perché finiva il periodo Quindi c'è stata un'accelerazione Alla messa in campo di finanziamenti Quindi l'agenda che aveva progetto Aiuti economici europei Questo ha sostenuto Ed è stato in qualche modo La spesa pubblica è stata incrementata In qualche maniera E quindi ha fatto crescere in generale E poi c'è stata un'annata Anche qui migliorata Su tutto il profilo del turismo In quanto le zone del Mediterraneo Sono state come è noto Insomma destabilizzate dalle guerre L'Italia in mezzogiorno Ha respirato un po' di più Questo è il quadro del mezzogiorno d'Italia E di quella crescita che c'è Naturalmente Che c'è stata Naturalmente il Molise La crescita è dovuta a due fattori A due aziende L'esportazione E il settore agroalimentare L'esportazione che rappresenta Dalla Fiat Quindi un aumento Della richiesta di macchine Di nuova produzione E dalla molisana Un dato straordinario Sotto certi profili Speriamo ripetibili E ce l'auguriamo Perché comunque regge Qualche settore Nella grande industria Che a fronte di una media nazionale Della crescita dell'esportazione Che va dal 10-12% Il Molise ha avuto il 45% Delle esportazioni Allora il 45% Delle esportazioni In una comunità Di 300.000 abitanti È un dato eclatante E che fa dire Al presidente Della giunta regionale E anche agli indici statistici Che noi stiamo crescendo Del 2,9% Ma la morte perpetua Delle partite IVA Che ci sono state Della piccola impresa Artigianale Commercio Della povertà Sempre più grande Dei molisani Cioè aumenta la povertà Basta chiedere a Don Benito A Santimotio Per dire Don Benito Quante persone mediamente Vengono qui Da lei A chiedere Come dire L'aiuto e il sostegno Della Caritas Avremo un dato allarmante Anzi Don Benito ha scritto anche Sui social Di un sostegno A cittadini Travestiario E beni di prima necessità Proprio perché La Caritas Di per sé Non ce la fa Quindi Come si vede Si raggiunge Un vertice Con due aziende E si aumenta Il PIL Quindi Teoricamente La ricchezza Ma come si capisce Non ricadono Tutti nel Molise Ma vanno O comunque Guardano due aziende Tutto il resto È Un deserto Io credo Che C'è un errore Quindi anche Di comunicazione Del Presidente Della Giunta Regionale Traverso il quale O è soltanto Propaganda O non ha capito Oggettivamente La crisi Che sta attraversando Il Molise Perché è ripetuta Anche dal segretario Del regionale Del suo partito Di cui adesso Siamo ripartiti È un auspicio Questo naturalmente Cioè Condividiamo tutto Per questa ripartenza Ma purtroppo Non appartiene Al 99% Dei molisani Ecco Bene Questa puntuale Disamina Fatta da Antonio D'Ambrosio Ci consente Di entrare Ancora Maggiormente Nel tema Di quella Che è la crisi Noi parliamo Di termoli Ma potremmo fare Un analogo Come dire Giro di immagini Tranquillamente A Isernia O a Campobasso O in altre Realtà Molisane Il tema Del PIL È interessante Antonio parla Di un errore Nella comunicazione Ma da un Imprenditore Da uno Molto Attento Ai conti Come Paolo Di Laura Frattura Da un ex Presidente Della Camera Di Commercio Sorprenderebbe Che ci sia Un errore Di comunicazione Credo che in realtà Il Presidente Conosca Molto bene Questi dati E probabilmente Con il picco Dell'esportazione Sono i commercianti Forse di Bonno Di Filadelfia A vendere bene Il prodotto Molisano Mentre quelli Locali Tirano La cinchia Ecco Parliamo proprio Di commercio Perché Antonio Mautone È stato Tra le altre cose Anche per Dieci anni Dall'ottanta Al novanta Il Presidente Di Conf Commercio È un operatore E conosce Benissimo Termoli La nostra scheda Fa vedere Mautone Le immagini Del corso Di Termoli Spopolato Lei lo percorre Tutti i giorni Quali sono Nella realtà Gli effettivi Problemi Che sta scontando Il commercio A Termoli I problemi Indiscutibilmente Sono quelli Di tutti i giorni Quindi la mancanza Di infrastrutture La mancanza Di organizzazione Amministrativa Per ciò che riguarda Un occhio Al Al commercio E se vogliamo Anche al Al piccolo Artigiano Sotto molti aspetti I problemi Vengono da lontano Sembra e solamente Per la mancanza Di un'attenzione Amministrativa Nei riguardi Della cittadina Questo è il canto Del ciglio In pratica Di corso nazionale È finita Nel senso che Non c'è stata Un'attenzione Intelligente Volutamente O no Non lo so Ma a questo punto Devo dire Che c'è Una forzatura Perché si parla Già Da un documento Che io Ho casualmente Trovato Del 1990 Dove l'assessore Allora Enzo Ferrazzano Diceva E parlava Di parcheggi Quindi un documento Frasi scritte sue Riproponibile Comunque Comunque Da Da vagliare Molto attentamente Per finire In che cosa Nella chiusura Vandalica Di un centro Senza Infrastrutture O strutture Portanti Termoli Abbandonate A se stessa Si pensa Solamente A Grandi opere Partite da 7, 8, 9, 10 12 milioni 13, 14, 15 Siamo arrivati a 22 milioni Di euro Per famigerato tunnel Che non porterà Nulla Fatta in questa maniera Secondo me Già fece a suo tempo Un manifesto Funebre A favore Dell'allora Sindaco Vincenzo Greco Perché era Una chiusura Vandalica E ottene Certi risultati La stessa chiusura Vandalica Peggiore E' stata fatta Dall'amministrazione Sbrocca Tramite l'assessore Ferrazzano Dopo Di Brino Essendo assessore Anche Dell'amministrazione Di Brino E lo stesso Ferrazzano Del 1990 Lo stesso Ferrazzano E bugie Dal 90 Oggi C'è scritta La data E quella Le stesse idee Le stesse Proposte Il canto del cigno Quindi dobbiamo Fare la canzoncina La canzoncina E' che non avendo Nessuna Attrattiva Giustamente Voglio giustificare Anche il cittadino Cliente Ma non posso Giustificare Un'amministrazione Che non sa Come accompagnare Gli invalidi Le persone I cittadini normali A centro di termine Se non Tramite le multe Fatte in abbondanza Questo è il dato Di fatto Quindi dobbiamo Ecco Lei ritiene Che la chiusura Del corso nazionale Quindi la eliminazione Della possibilità Di parcheggiare Sia stato un danno E' un danno Nella cattiva organizzazione Il momento in cui Si chiude Vandalicamente Il centro Dopo aver deturpato Via Cristoforo Colombo E quindi già La viabilità Che era stata presentata In un progetto precedente Dall'architetto Delrico Fatta sapientemente E attentamente Non è stata rispettata Neanche quella Per cui Chi deve entrare A te Unici deve pensare Dieci volte Preferisce non pensarci E andare al centro commerciale Dove trova il suo posticino Mette la macchina Giustamente D'estate perché c'è il fresco D'inverno perché c'è il caldo E c'è il parcheggio famoso Il discorso del parcheggio Che io feci già Per quasi Quarant'anni Con l'amministrazione La Penna Dove Fino a Greco Non è stato Mai realizzato Questo progetto Vandalico Ci è riuscito Sempre L'amministrazione Sbrocca Tramite L'assessore Anzo Ferrazzano Dicendo In pubblico Quindi Testimoni Si fanno Prima i parcheggi E poi si chiude il centro Tenendo presente Che la chiusura Del centro Rappresentava Dalla Penna A Greco Centro Corso Nazionale Via Via Fratelli Brigida Corso Vittorio Emanuele III Ma non è oggi È 40 anni fa Il sindaco Di Giandomenico Ne sa qualcosa Ne sapevamo già qualcosa Gli stessi artigiani Con Enrico Russo Ne sapevamo qualcosa Quindi siamo arrivati Al canto del cigno È un necrologio Che stiamo facendo Non è un Non c'è stata Non c'è nessuna Come dire Iniziativa Amministrativa Culturale Sociale Nulla A parte quello Che ci dirà Il Padre Eterno Che è in marzo Per cui Il luglio e agosto In grado di santi Dio Bene o male Si vive il mare Per chi lo riesce a vivere Questo è il necrologio Che cosa si potrebbe fare Il contrario Di quello che ho detto E che ho sempre detto Per 50 anni E di questo parleremo però Nel secondo giro Ok Della nostra conversazione Questa è una Insomma Testimonianza Drammatica Direi Impresa diretta Di chi vive poi Quotidianamente Mi si passa il termine Sul marciapiede La Come dire La vicenda Questa caduta Verticale Del commercio A Termoli Con Liberato Russo Invece Andiamo a vedere Quello che sta accadendo Nel mondo Degli artigiani Perché Se i commercianti Non se la passano bene Altrettanto Accade Anche In questo settore Quali sono Le problematiche E le criticità Che ha rilevato Nel suo mondo Intanto La ringrazio Per l'invito Qui a Tene Molise Beh Mi riallaccio Un po' Anche a quello Che è stato Già detto Nelle premesse Detto molto francamente Io sono 17 anni Che lavoro Al servizio Diciamo Della categoria Degli artigiani E sinceramente Quello che Sta accadendo In questo frangente Storico Se vogliamo Dal 2007 A oggi Ma molto più In maniera molto più forte Negli ultimi 3-4 anni Non l'avevo mai visto E non pensavo Si potessero raggiungere Diciamo Degli aspetti Così Forti Cruenti Per le imprese C'è Dico solo qualche dato Negli ultimi 6 anni In Molise Hanno chiuso Quasi 900 Imprese Artigiane E che significa Che Tutto un settore Ha iniziato Prima a soffrire E poi Pian piano A morire Partite IVA Chiuse Parlo in modo particolare Di tutto Il settore Dell'edilizia Il settore Dei trasporti Il settore Della metalmeccanica Del manifatturiero Un po' meno Ma A livello Lieve Hanno sofferto Meno Un po' meno Le aziende Riferite al settore Parrucchieri Estetiste Mi riferisco Più che altro a queste Ma hanno sofferto Tra l'altro Invece Anche loro In modo particolare Per tutto ciò Che sta A significare Il cosiddetto Lavoro nero Quindi il lavoro Irregolare Che guarda caso Aggredisce proprio In modo particolare Questi settori Quindi diciamo Che se andiamo A analizzare Il dato In sé per sé Va depurato Antonio L'amico Antonio Parlava di PIL 2,9 Però in effetti Se andiamo a mettere Questi dati sotto La lente di ingrandimento Ci rendiamo conto Che poi Così non è C'è poco Da stare felici In modo particolare L'artigianato Probabilmente Forse Forse anche Più degli altri settori Ha risentito Diciamo Di questo momento Davvero Drammatico Penso che Questo sia scrivibile A parte Agli aspetti Di macroeconomia In generale E va bene Però ci sono Delle responsabilità Che riguardano Diciamo Tutto il parterre Dalla politica L'economia Anche le associazioni Il mondo Culturale Il mondo istituzionale E quant'altro Per cui Ognuno Per sé Dovrebbe fare Un esame Di coscienza E capire Lì dove ci sono State Diciamo Gli errori E quindi In qualche modo Andare a riparare Sicuramente L'aspetto fiscale È quello che ha Aggredito maggiormente Diciamo Le imprese Quindi Faccio solo per un esempio Tornando in modo particolare A Termoli C'è tutta una zona Artigianale Che è praticamente Morta Abbandonata A se stessa Ci sono aziende Del settore Auto Ufficine meccaniche Autoriparatori Che già Per esempio Visto lo smaltimento Dei rifiuti particolari Che già fanno loro E quindi Subiscono dei costi Anche pesanti Devono far fronte Alle gabelle Dei rifiuti Comunali E quant'altro Che tra l'altro Negli ultimi due anni Sono stati anche in crescita Di questo È un aspetto Questo che abbiamo già affrontato Col comune Purtroppo È vero La coperta è corta O la tieni da una parte O dall'altra Quindi O penalizzi le famiglie O penalizzi le imprese Quindi è difficile Poi trovare una soluzione Che vada bene per tutti Però Insomma Un occhio di riguardo Soprattutto per quelle imprese Che hanno dedicato Una vita intera Per generazioni Alla propria attività E quindi Alla crescita Del Diciamo Dei migliori aspetti Anche sociali Io dico Che quando chiudo Un'azienda Commerciale O artigiana Credo che si impoverisca In modo forte Proprio L'aspetto sociale Si viene meno Diciamo Con tutto poi Quello che ne consegue Anche a livello Di pericolo Manca una socializzazione Una volta che si chiude Una sala cinesca Artigiano Commerciale È un danno Di non poco conto Per cui Tornando ai dati È vero che c'è Come dagli ultimi dati Forniti da Union Camere O dallo Svimez Ci sono Dei dati in crescita Per esempio Per le giovani Riferite alle giovani imprese Delle under 35 Che sono aumentate Ma anche lì È un dato Benvengano i giovani Che aprono nuove attività Ma bisogna chiedersi Perché Aprono nuove attività Sono convinti Di aprire nuove attività O vengono immessi In un flusso Di mercato Per un mercato Che non dà risposte A esigenze di lavoro Per cui È una sorta di autoimpiego E quindi Mi permetto di interromperla Perché c'è questa grossa Barzelletta Un'altra Che circola Negli ambienti regionali Allorquanto si manifesta Una crisi Qualsiasi Parliamo di una cosa Di casa nostra Lo zuccherificio Si parla Di incentivi Ma incentivi All'autoimpiego L'autoimpiego Diventa Una alternativa Al suicidio Lavorativo Questa è la verità Prego Era proprio questo Che volevo Sottolineare Che Imprenditori Non ci si improvvisa Ma non ci si può improvvisare Perché poi ci si trova Di fronte A delle difficoltà Insormontabili Per cui Se non si ha Una progettualità Dietro Sostenuta Da altrettanta Progettualità Da parte del mondo Politico Istituzionale Anche associativo Non è facile Per un giovane Poi Superati i due anni Tre anni Portare avanti Un'idea imprenditoriale Perché possa essere affermata Sul territorio E quindi Questo Non solo Potrebbe Creare ulteriori danni Dall'altro Lato Certo La pressione Fiscale E tanti altri Aspetti Paletti Chiamiamoli così Non Attraggono Nemmeno Imprenditoria Dall'esterno Cioè Investire in Molise Poi Diventa Veramente Difficile Se Il contesto Di cui si parla E Questo Insomma Ha citato Anche la zona Industriale Se non fosse Per la Fiat O per quelle due Tre Aziende Più grandi Anche lì È una moria Di imprese Tra l'altro Molte aziende Artigiane Per forza di cose Si sono dovute Impiantare Lì nella zona Industriale Tra l'altro Sostenendo Dei costi Che sono Dell'industria E non possono Certo essere Dell'artigianato Per cui Anche noi Come associazione Di categoria Ci troviamo In forti difficoltà Abbiamo il polso Della situazione Perché Per fortuna Tra virgoletta Al nostro interno Abbiamo I cosiddetti Confidi Che aiutano Comunque Accompagnano L'impresa Nel rapporto Con Gli istituti Di credito E anche In questo caso Il rapporto Impresa Banca È diventato Difficile Anche qui Dati Che si riferiscono A crescita Dei finanziamenti Ricevuti Dalle banche Ma se andiamo a vedere Bene il dato Sono più le famiglie Che hanno ricevuto Benefici Dal rapporto Con la banca Piuttosto che le imprese Forse Qualcosa in meno Hanno ricevuto Negli ultimi 36 mesi Credito al consumo Credito al consumo Sicuramente Ma non All'imprenditorialità Bene Chiudiamo qui Questo primo Giro di conversazioni Con i nostri Ospiti Con Liberato Russo Che è Il segretario Regionale Di Casa Artigiani Molise Con Antonio Mautone Che è Commerciante Ma è stato Per dieci anni Presidente di Confcommercio E insieme al nostro Compagno di viaggi Antonio D'Ambrosio Stiamo parlando Della crisi Che attanaglia Termoli Nel contesto Più generale Di crisi Ma accentuata Da fattori Tipicamente Locali Abbiamo fatto Questa ricognizione Nel nostro primo Giro di conversazione Torniamo in studio Dopo una pausa Pubblicitaria E cerchiamo Di capire Quali sono Le altre cause E eventualmente I rimedi Allora eccoci Di nuovo in studio Dopo la pausa Pubblicitaria Riprendiamo A Millibar Questo viaggio All'interno Della crisi Termolese Che riguarda Commercio Artigianato E industria Antonio D'Ambrosio La Come dire Aggravante Di quello che sta Accadendo in generale Ovunque Qui in Molise Appare Sempre di più L'inadeguatezza Della classe Politica Parliamo sia A livello regionale Che a livello Di amministrazione Locale Fatte ovviamente Le debiti Eccezioni Che però si contano Sulle dita Veramente non di una Ma di due Mani Ritorniamo quindi A trattare un tema Che qui a Millibar Abbiamo sviscerato Ed esposto Più volte Ma che ritorna Puntualmente Quello di Una classe dirigente Che non ha Un minimo Di cognizione Un minimo Di preparazione Questo probabilmente Nasce anche Dalla mancanza Di quella che una volta Era la palestra Dei partiti Nessuno avrebbe fatto Con la democrazia cristiana O col partito comunista Il consigliere regionale Senza aver fatto Almeno dieci anni Da consigliere Comunale Però questo è Come Come si può Guardare Con fiducia Al futuro Di fronte a una situazione Del genere Termoli Questi anni Della Sua autonomia La regione Molise E della Quella classe dirigente Che ci ha preceduto La democrazia cristiana In particolare Ma anche Il contributo Degli altri partiti Quelli della sinistra Che l'opposizione Propositiva Nella battaglia politica La struttura Portante economica Della nostra regione È stato oggetto Per un vendegno Di dibattito Anche feroce Delle aree Territoriale E del loro sviluppo E quindi La rappresentazione Schematica Che io faccio In questo momento Ma è stata Come dire Battaglia politica I scontri Incontri Eccetera Partiva Dalle risorse L'acqua Dalle opportunità Dei territori Il mare Per esempio O le montagne E da indici O sostegno A ipotesi Economiche Fatte da quella Classe di ricerca Non è stato Uno spontaneismo Che si è costruito Da sé E che ha retto Nel tempo È stato pensato Campobasso Il centro Di un capoluogo Di regione Dove La pubblica Amministrazione E il doppio reddito Era centrale Per lo sviluppo Di quella comunità E infatti È stata di attrazione A tutti i comuni Limitri Del Molise Centrale Dove Adesso Noi ridiamo Un po' sopra A modi battute Anche per sdrammatizzare Quelli di Riccia Stanno tutti A Campobasso Perché Giacomino Sedate Aveva dato Il posto L'ospedale L'assessorato All'agricoltura Assessorati vari Ministeri Superministeri La comunità Quindi si è Riorganizzata In quel territorio Attraverso La pubblica Amministrazione E spesso A doppio reddito E quindi c'era Un benessere Una ricchezza Che ha prodotto Ulteriore ricchezza Stabilizzazione Prospettive Di famiglie Isernia 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 La sua battaglia Per la provincia Che ha costituito Un altro passaggio Una zona interna Con l'Alto Molise Attraverso Il recupero Delle sue bellezze Storiche E lo sviluppo Che ha preceduto Che ha preceduto In politica Non era più pensabile Una terza provincia Anche se si è provato A fare una terza provincia Sul basso Molise Termoli e Larino Larino Termo Si discutono Ma non era proponibile Quando ricordiamo Girolamo La Penna O Daimmo Che in questo territorio Hanno avuto Un ruolo Importantissimo E chi? E Daimmo Sì certo Hanno avuto Un ruolo importantissimo L'ipotesi Della battaglia politica Torno a ripetere Che non apparteneva Solo Alla democrazia cristiana E dello sviluppo Industriale Del basso Molise E il turismo Erano i due Punti fondamentali La FIATA Si trova qui Per una serie di circostanze Perché anche per Il sindacato Che insomma Quando firmò Il contratto Metalmeccanico A Roma A Torino Con la FIATA C'era l'impegno Dell'investimento Nel sud Però A trarre queste opportunità Attorno a queste ipotesi Di sviluppo Nascono le partite IVA Nel nostro territorio E Termo Diventa il centro Di attrazione Della imprenditoria Della nostra regione Piccola Media Fatta dalla famiglia Dal piccolo artigiano Dal commerciante Dalla stabilizzazione Di chi Da oltre cent'anni Sta lì In quell'attività In quell'attività O di tante altre persone Che si consolida Questa E c'è Come dire Un aspetto interessante Del dinamismo Di Termoli Che trascinava Dietro di sé Lo sviluppo economico Della regione Questo è il punto centrale Dell'ipotesi Di lavoro La caduta Della crisi nazionale Ma apparimenta La caduta Della sua classe Dirigente Politica Amministrativa Non hanno saputo Più riflettere Del percorso Perché la crisi Li ha trovati Impreparati Non consapevoli Del ruolo Che loro stavano facendo E dove si trovavano E ma Non è stato Quindi consapevole Ma c'è stata Una dosa Di arroganza Voglio solo ricordare Che è una mia Esperienza personale Ma per dire altro Di altri Noi ci siamo Avvalsi Per esempio Come classe E politica Dirigente Amministratore Di economisti Nazionali Di sociologi Nazionali Di esperienze Nazionali Che ci hanno Accompagnato Nel nostro percorso Oltre alla nostra Formazione Attraverso Come dire L'ABC Economica E politica De Masi Il professor De Masi Uno dei massimi Sociologi Nel mondo Ha fatto Uno studio Attraverso La presidenza Del consiglio Sulle condizioni Della regione E le prospettive Dello sviluppo E quali erano Le strade Insieme A degli imprenditori Del settore Dell'edilizia Economisti Ci hanno dato Degli indirizzi Oggi Oggi invece Il politica Si è trasformata O in un sordo O in un sordo Come dire Amministratore O in un arrogante Amministratore Che pensa Saper risolvere Per onestà Che quella Non è dovuta Non è dovuta Non hanno prodotto La regione Anche qui Bisogna essere Chiara Non era più L'imprenditore Che doveva Foraggiare Sostenere Aziende Fuori dal mercato Ma Altrattempo Dovere Che ci vuole Una strategia Di uscita A medio termine Invece Noi abbiamo Perso Due patrimoni Il logo Arena Regalato Praticamente Il logo Arena Regalato Aveva un valore Di un'opportunità Ancora E lì ancora Riparte niente Se gestisce Cassa Integrazione Che finisce anche Quindi il Molise Sta uno a tre Dentro Uno Cittadino Uno su tre Sta nella povertà Non sulla soglia Della povertà Torno a ripetere Politiche di inclusione Sociali Non ce ne sono E Il dramma È talmente Manifesto Che quando Si annuncia Che la ripresa C'è Stiamo andando avanti Abbiamo lavorato bene Credo che faccia Arrabbiare di più I cittadini Questo trionfalismo Che di maniera Di comunicazione Io credo Che un po' D'umiltà E di basarsi Su dati concreti Di fronte Come dire A confrontarsi Con chi è meglio Non i convegni Che si fanno Appena afro Con Il ministro Della coesione sociale Con l'associazione Industriale Che come dire Ha bisogno Di visibilità Ma Entrare più Nei contenuti E vedere i provvedimenti E sono in campo Dei provvedimenti Termoli Che ha questo stato Questa situazione Nell'area di crisi Previste In campo nazionale Che noi non sappiamo Quanti soldi Saranno investiti E di seconda categoria Su Termoli Non complessa Non complessa Sembri c'è Non sappiamo quanti soldi Ci saranno Se ci saranno Su quella complessa Non è una guerra Tra venafro Boniane E Termoli Attenzione Se no sbaglieremo Anche qui La nostra analisi Però Voglio dire È una È un intervento Di seconda categoria Semplice Che può essere Presa in considerazione Con i fondi residuali Eventuali Di quella complessa Che Già adesso Le domande Che sono arrivate lì È una cifra Stratosferica Rispetto all'opportunità Concrete Dell'investimento Come su questo Torna Come no Solo un inciso Benvengano Aree complesse Arei semplici Risorse Che potrebbero Arrivare Però io La cosa che voglio capire È anche questo Un dato Quante piccole Non piccole e medie Quante piccole Piccolissime Ormai Aziende Commerciali Artigiani Potrebbero Beneficiare Di questo Di questo strumento Non lo so Perché La prima esclusione È del bando Appunto Qual è Qua stiamo parlando Di piccolissime Non si sta parlando di noi Cioè Le imprese ormai Hanno rimandato a casa Centinaia di dipendenti Perché noi Non si sta parlando di voi È talmente evidente Insomma È una situazione Disarmante Sinceramente Allora Non sempre Per esempio E chiudo Non sempre Sono necessari Gli investimenti Di quantità di investimenti Ma non Saper cogliere In questo territorio Per esempio L'opportunità Di quella novità Che è stata L'anno scorso Quel piccolo movimento Sul turismo In più Con atti amministrativi Nuovi Con opportunità Che diceva Tonino Mautone Di avere L'intelligenza Del buon padre Di famiglia Nel governare Un territorio L'esigenza di tutti Ma avere Questo corso Così Che oltre a far perdere L'identità Di una comunità Ha creato danni Massacrato Diceva Massacrato E ne creerà di più Eh sì E ne creerà Quindi Allora Perché Parliamoci anche qui Con molta chiarezza Non tutti gli strumenti Stanno nel sindaco E nell'amministrazione comunale Se no sarebbe Anche qui Faremmo anche noi Propaganda Inutile Però E mi insegnerà È liberato La stragrande maggioranza Delle partite Ive E dei commercianti Degli artigiani Chiedono Una Destrutturazione Delle procedure Amministrativa Che Sono soldi contanti Non perdere tempo Avere la risposta Il giorno dopo Ecco Un'amministrazione Che si mette In sintonia Con i tempi Della crisi Ma noi Non vediamo niente C'è una battaglia Su un tunnel Dove si devono spendere Mentre due milioni di euro E quello Può essere le risorse Io sulle risorse Sulle opportunità Sulle opportunità della regione Molise E poi vorrei dire Ancora altre cose Assolutamente Nel terzo e ultimo giro conclusivo Parleremo Anche di questo Antonio Mautone Lei ha fatto Due Riferimenti Dicendo che ormai Siamo al canto Del cigno Però poi ha parlato Di un'opera Stratosferica Perché noi Lì vediamo Il corso Così vuoto Negletto Abbandonato Però in fondo A quel corso Passerà L'opera Più grande Che Termoli Abbia mai concepito E progettato Questo famoso tunnel Che sta scatenando Molte Divisioni E che così Contestualizzato Nel nostro discorso Di questa sera Mi fa pensare Che si guardi Alle grandi cose E poi si perda Come dire Di Di mira Quello che Accade Nella vita Di tutti i giorni Delle persone Senza Intervenire Le chiedo Lei ha ancora Un minimo Di speranza Su questa grande Vicenda Del tunnel Forse non sarebbe meglio Mettere soldi Laddove servono E' stato detto In pubblico Dal sindaco Sbrocca Che non è il sindaco Delle buche Io posso essere d'accordo Con le sue scelte Non è il sindaco Delle buche Però di buche A termine Ce ne sono tantissime E quindi Derivano Da queste piccole buche Che non appartengono Al sindaco Gli eventuali Anche problemi Del cittadino Che però Proprio a casa sua Qual è il beneficio Che ne ho Fra cinque anni Dopo che sarò morto Perché il canto del cigno Finisce Finisce la canzone Muore il cigno E per cui Fra quattro Fra cinque Fra sei anni Giustamente Si rivedranno Tutte le posizioni Nel frattempo Il sindaco Il sindaco Delle non buche O delle buche Che farà? Nulla Come giustamente diceva Antonio Un minimo di umiltà A saper capire Qual è il problema Di chi ha fame Se ha fame Non può andare Alla caritas Se ha fame Bisogna provvedere Tramite gli strumenti Istituzionali E non Quindi chiedere Al commerciante All'artigiano Cosa possiamo fare? Questo non è stato fatto Non è stato fatto Nulla di concerto Insieme alle categorie Non c'è stato Nessun avvicinamento Voi avete chiesto Un incontro Un colloquio Qualche Come dire Da 1900 Sede Dove rappresentare Io sono restato Un po' Stupefatto Ma in una regione Stupefacente Come è il Molise Non ci si deve poi Meravigliare Di niente Nel vedere Quel documento Quella rivista La città E leggere la data Del 1990 Io davvero pensavo Che l'attuale assessore Ferrazzano Fosse Come dire Lì in quella sede Rappresentato da un avo In realtà Egli stesso Ecco dicevo Avete cercato Un'interlocuzione Con Con l'amministrazione Sì E che cosa vi è stato detto Bugie Si fanno Prima i parcheggi E poi si passa al centro Invece si è passato Prima A devastare Come abbiamo già detto Prima Non si pensa Per farne Per farne 4, 5, 6 I piani In centro cittadino A costo zero Senza regalare Il centro Il centro di Termoli E deturpare Termoli Togliendogli Un giorno al mare Un giorno a Tremiti Un giorno ai Serdi Un giorno ad Agnone I vari artigiani di lavoro I vari commercianti di lavoro Il cittadino turista È contento Senza regalare Gli spazi A un'impresa privata Per 22 milioni di euro Con questi 22 milioni di euro Potrebbe risanare le buche Provedere a difesa grande Provedere a conrata porticone Provedere al disastro Che c'è a Riovivo Provedere alle esigenze Di chi sta veramente Morendo di fame Dignitosamente a casa sua E parte va Alla croce rossa Parte invece Non ci va I commercianti Si buttano nel balcone Tipo Spinozzi L'ultimo Quindi l'amministrazione Non è sorda È sorda È cieca Ed è umiltà Zero Cosa Che cosa si può dire Se si continua a dire Sempre questo Tutti i giorni Ma è sorda Ducemmo giustamente È sorda Il pacchetto turistico Non ce lo siamo inventati noi Ci vuole nulla A fare un pacchetto turistico Ma va visto amministrativamente Senza regalare 22 milioni Per Taormina vive Su uno scoglio Su uno scoglio Dove Ci si accede Facilmente Senza deturpare Taormina Termoli Ci vuole La mega progetto E perché non provvedere Con gli stessi soldi A quello che In effetti La città chiede Se è vero che c'è stato Questo incremento Dobbiamo ringraziare il mare Se siamo vissuti bene Da luglio in poi Perché dopo settembre Morte assoluta Il centro ce l'avete Le fotografie sono quelle E così Dalla mattina Fino alla sera Quindi Per qualche sprazzo Di passeggio Ringraziando il Dio Ringraziando l'Alta Puglia Che spesso non viene ospitata Vedi gli alberghi Vedi Quello che necessita Per i ragazzi Per i giovani Manca Manca Per ciò che riguarda noi Per il corso Il tema Termoli E il centro Si vuole chiudere anche Il corso Vittorio Emanuele III Ci siamo A restyling Vabbè Era quasi ora Perché i topi Ballano E ne abbiamo Tantissimi Veramente tanti Con quei soldi Potrebbe fare anche Una buona Ritalizzazione Topi Ci sono sei maschietti Che le femminucce Ne abbiamo parecchi Allora Chiudendo Anche l'arteria Di corso Vittorio Emanuele III Aspettare Di avere Forse I parcheggi Perché dal 1990 Stiamo aspettando Detto da Ferrazzano Da 1990 Il 1990 Diceva Perché giustamente Una persona Attenda A quanto pare L'intervistatore A quanto pare I progetti Sono tanti E grandiosi Ma quali sono Un breve termine Innanzitutto Dice l'assessore Ferrazzano Cercheremo Di determinare I lavori Già iniziati Il porto commerciale Le due strade Di collegamento Quello che va Dal liceo classico Alla zona artigiannale E quella di cui Parlavamo prima Poi passeremo Ad altre strutture Urgenti 1990 Tipo Il parcheggio Sotto piazza Stant'Antonio La rete Fognante Quella idrica Un secondo depuratore Che non ancora viene Utilizzato Difatti Non possono Il commercio Che paga Amministrativamente Una certa cifra Fiscalmente Un'altra cifra Non può avere il bagno Perché non ce l'hanno Glielo danno L'acqua non c'è Quindi non può Neanche chiedere Oppure Un appartamento nuovo Non può avere Il bagno Perché l'acqua Cioè Non gli fanno Il contratto dell'acqua Non gli lo fanno Il sindaco Invece che pensare A 22 milioni di euro Di un tunnel Che spascia mezzo mondo Su cui Il 50% E forse di più Della città di Termoli Tramite i comitati Tramite I banchetti fatti Tramite alcune Forze politiche Contrarie Nettamente E intelligentemente A questo progetto Procede Non lo so Sordo Procede Senza pensare Invece A quello che si dovrebbe Realmente fare Che diceva giustamente Antonio prima Fare sistema In un Pacchetto Turistico Insieme Ai commercianti Agli artigiani E pensare Alla cattedrale Nel deserto Dell'uncleo industriale Che è stato Abbandonato Completamente E non Spendere Ma vedere Come Spendere Intelligentemente All'interno Della stessa città Di Lanza Perché il sindaco Dovrebbe essere A parere mio Il padre di famiglia Questa famiglia È stata Devastata Proprio dal Padre Dalle amministrazioni Che si sono succedute Fino a finire A quello che abbiamo Oggi In maniera determinata Caparbia Devono fallire Tutti Dopodiché Vediamo Chi verrà Bene Con questa Conclusione amara Passiamo Al È chiaro Che Che qui a Millibar Ma come abbiamo detto Molte volte Gli stessi Interessati Hanno Ospitalità Diritto Di cittadinanza L'amministrazione Il sindaco Gli assessori La ditta Che è candidata A realizzare Il tunnel Noi li inviteremo E saremo Ben lieti Di ospitarli Nella Come dire Speranza Che possano Accettare Una interlocuzione Che in più Di una circostanza È stata Difficile Liberato Russo Anche lei Ha la percezione Di una Generale Inadeguatezza Della classe Politica Beh Antonio Prima Partiva Da lontano È partito Da lontano Determinate Scelte Che sono state Fatte A livello Istituzionale Politico Quindi Il nucleo Industriale Il turismo Che purtroppo È partito Monco Non è partito È partito Male Io penso Che un discorso Sulla democrazia Partecipata Col coinvolgimento Maggiore Dei cittadini Dei comitati Rappresentati Da cittadini Vada fatto Per il futuro Per il futuro Ovviamente Una città In primo luogo È vissuta Dai cittadini Dalle imprese Dalle associazioni Per cui È auspicabile Che ci sia Un approfondimento In tal senso E anche Di confronto Con chi rappresenta Sia cittadini Che imprese Questo a vari livelli Siamo parlato Di termoni Ma è rivolto Ovviamente Alle istituzioni Regionali E perché Proprio dal confronto Dalla necessità Del confronto Tra chi rappresenta Delle categorie O dei cittadini Stessi E le amministrazioni Che viene fuori Un buon prodotto Necessario Per assicurare Un futuro Dignitoso A tutti Se manca questo Viene a crollare Tutto il sistema È ovvio Per cui Penso che Anche il legislatore Anche chi fa le leggi Avrebbe dovuto Affinare l'orecchio E quindi Avere un ascolto Maggiore A chi vive Più direttamente Il territorio Faccio un esempio Ma è solo un esempio Noi sul lavoro Irregolare Mi credo Vengono quotidianamente Decine In associazione Da noi Di imprenditrici In modo particolare Come dicevo prima Del settore estetiste E parrucchiere Non da meno Il settore Della meccanica È una piaga Di sempre Ma in questo momento È fortissima Noi abbiamo operato Negli ultimi due anni Come associazione Di categoria A fianco Alla guardia Di finanza Che ci ha dato In questo Una grossa mano E si è impegnato Io ringrazio Le forze dell'ordine Proprio perché Si sono messe a disposizione Della categoria Però non le dico Quante difficoltà Anche le forze dell'ordine Hanno trovato Nel lavoro Che svolgono Quotidianamente Perché Perché anche le leggi Sono piene di cavilli E sono fatte male Per cui Legano le mani Anche a chi È deputato Al controllo E quindi potrebbe In qualche modo Arginare Dei fenomeni Incresciosi Che dilagano Soprattutto in contesti Storici Per un attimo L'avvocato Del diavolo Non con questo Giustificando Il lavoro Illegale Tengo a precisarlo Probabilmente Però Dietro a delle forme Di lavoro Illegale C'è L'impossibilità Di fatto Causata Dalla legge E dai balzelli Di farlo Il lavoro Legale Perché Probabilmente Con i balzelli Che vengono pagati Non si riesce A stare in piedi Ecco Questo è Un problema Ulteriore Da analizzare Questo è un problema Ulteriore Sicuramente Ha il suo peso A livello Di dato Anche statistico Perché Se prolificano Sempre di più Vuol dire Che un malessere C'è E comunque Esiste Però Io Da segretario Dell'associazione Che rappresento Mi metto Dalla parte Di centinaia Di imprenditrici Che giustamente Queste sono le chiavi Se lo fanno gli altri Le altre E nessuno fa nulla Lo faremo anche noi Cioè Riconsegno le chiavi Della mia azienda Io pago tasse Pago gli affitti E questo è un altro Problema Perché gli affitti Per i commercianti Per gli artigiani Per le imprese Sono Veramente alti Oggi Sostenere L'affitto mensile Insomma Voglio dire E quindi Poi anche lì Tutto il discorso Sulla sicurezza Sul lavoro Le leggi Cioè Voglio dire Chi è regolare È sottoposto A tutta una serie Di adempimenti Che hanno un costo Per cui Noi abbiamo coinvolto Anche le prefetture Prima di Campobasso Per quella di Sernia Abbiamo anche Preso spunto Da altre regioni Del centro Italia Del nord Italia Emilia Romagna Toscana Dove hanno trovato Per esempio Per le parrucchiere La cosiddetta Poltrone in affitto Nel senso Che la parrucchiera Piuttosto Che aprire Chiede Per dieci giorni Per quindici giorni Perché magari Ha la sua Clientela Alla parrucchiera Regolare Di affittargli La poltrona Paga un tot E quindi È un affitto regolare Si formalizza Abbiamo chiesto Anche alla regione Di farsi garante Di questo Aspettiamo Delle risposte Speriamo che possa Verificarsi anche Molise Perché voglio dire Se è vero Per altre regioni Non capisco Perché Per il nostro territorio Questo non può Essere preso Cioè A volte Bisogna Saper anche copiare No In qualche In qualche modo Per cui Se È una cosa intelligente Ma è terribile Nel senso che È la rappresentazione Di un disagio Feroce Assolutamente Assolutamente Di contro Ci sta che Probabilmente Faccio il mea culpa Da parte mia Per conto mio Per l'associazione Che E le altre associazioni E per la categoria Che probabilmente In questo contesto difficile Bisognerebbe Stare più uniti Bisognerebbe trovare Una sintesi E andare meno Sparpagliati Perché poi È facile Perdersi In certe Derive No Quindi Almeno per quanto riguarda L'artigianato Spesso Ci si perde Quindi L'auspicio È quello Chiudo facendo solo un riferimento L'altra sera leggevo Una recensione Di un Saggista Canadese Un certo Alain De Nolte Che è un professore Di filosofia E professore Di scienze politiche Ed era una bellissima recensione Su un libro che sta uscendo in questi giorni Che si intitola La mediocrazia E quindi Infatti Mi sono ripromesso di acquistarlo Perché deve essere Le recensioni sono ottime Sono ottime Che spiega molto bene La situazione attuale Per cui È la verità Senza accusare nessuno Ma è tutta la società Che è Scaduta In una Mediocrazia O mediocrità Così come la vogliamo chiamare Che è il male peggiore Perché addirittura Questa mediocrazia Oggi Ci governa A tutti i livelli A livello Istituzionale A livello politico Economico Nelle scuole Insomma Un po' dappertutto Per cui L'unica speranza A mio avviso È che questa mediocrazia Essendo mediocre Possa soccombere Nei confronti O trovandosi a cospetto Di menti un po' più Libere Un po' più Forti E quindi in un certo senso Voglio dire Riacquistare Quella fiducia E quell'intelligenza Che può aiutare Una società A crescere Perché se no Diversamente Gli indici Stanno dicendo Che si sta abbassando Angorutto Drammaticamente Purtroppo Spesso Ultima idea In pratica Questa notizia Di questo volume Sulla mediocrazia Merita una puntata O forse più puntate Di Millibar Perché un volume Del genere Poi vedremo Insomma Le implicazioni Pratiche O gli spunti Di similitudine Con la Situazione Molisana Dove la mediocrità È più diffusa In natura Dell'idrogeno E con questa Amara considerazione Chiudiamo il secondo Giro di colloquio Con i nostri ospiti Stiamo parlando Della crisi commerciale Artigiana Industriale A Termoli Ma è chiaro Che insomma Anche l'intelligenza E la vivacità Degli ospiti Questa sera Ci porta Ci porta Lontano Una breve pausa Pubblicitaria Poi ritorniamo In studio Eccoci di nuovo In studio Qui da Termoli La puntata Di Millibar È dedicata Alla crisi Alla crisi Commerciale Artigianale E industriale Che riguarda La cittadina Adriatica Ma che è inserita In un contesto Ben più ampio Abbiamo parlato Delle cause Delle conseguenze Abbiamo parlato Della inadeguatezza Della classe politica Liberato Russo Ci ha parlato Di questo libro In uscita Che mi permetto Sin da ora Di raccomandare Mediocrazia Quindi descrive Quello che è Il processo Che ha portato Al governo Di città E di nazioni Una classe politica Assolutamente Inadeguata Ritorniamo però Adesso Al nostro Discorso Io proporrei Ai nostri Due ospiti Perché Antonio D'Ambrosio Ospite Non lo è In questa Trasmissione Di parlare Alla Telecamera Spesso I nostri Politici Fanno questo errore Considerano La telecamera Una sorta Di elettrodomestico In realtà Non è così Perché dall'altra Parte Ci sono persone Ci sono famiglie Ci sono uomini e donne C'è ascolto Allora chiederei A Antonio Mautone E poi successivamente A Liberato Russo Lì c'è una telecamera A disposizione In pochi minuti Perché siamo davvero In chiusura E in conclusione Cos'è che volete Dire a chi Vi deve O vi dovrebbe Quanto meno Ascoltare Se devono ascoltare Se devono ascoltare Innanzitutto Devono aprire le orecchie È la cosa principale Dovrebbero ascoltare Dovrebbero ascoltare La voce Del cittadino Comerciano Del cittadino Artigiano Ascoltare Quello che è Il pensiero Del cittadino Che ha Tramite il voto Portato Alcune persone Ad amministrare Amministrare Significa Amministrare Per il cittadino La cosa pubblica La res pubblica Non l'ho inventata io Non è stata inventata oggi Va fatta in maniera Da rispettare La persona Da rispettare Il cittadino Se L'amministratore Non rispetta Queste regole Basilari Che sono Avvicinarsi al problema Del cittadino Comerciano Artigiano O famiglia E vedere Sentire E capire Le sue esigenze A questo punto Non è sordità Non avrei un termine Molto bello Per sapere O per definire Che cosa è L'amministratore Indiscutibilmente Viene il rispetto Della persona Soprattutto Dalla Dall'handicap Al commerciante Ricco Ricchissimo Poverissimo Va rispettata La famiglia Perché il comune È una famiglia Di commercianti Di artigiani E di professionisti Non si possono ascoltare Solo e solamente Le proprie voci All'interno Di se stesso Il tunnel È la punta Dell'iceberg Di questa Filosofia Amministrativa Degradata 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 Come diceva Antonio Il bisogno Del bisogno Della cittadinanza Indipendentemente Da noi Comercianti Che stiamo soffrendo Pene Notevoli Grazie All'interessamento E la capacità Amministrativa Del famoso Assessore Ferrazzano Nell'amministrazione Sbrocca Perché è lui Di competenza Anche gli altri Dopo Però Analizzando Se ci darà Del tempo Poi Analizzando I singoli Capitoli Del problema Termini Vedremo Che in effetti Chiederei Come anche Antonio Penza Per gli artigiani Per le persone Che rappresenta Chiederei Un'attenzione In più A quello Che sono I reali Problemi E ce ne sono Tanti Da quello Fiscale Che lo Stato Non ci tutela Da giustamente Tu dicevi Mi conviene Essere Laurare in nero Che non Aveva partita IVA Lì forse Ci dovremmo unire Un attimo Di più Noi In maniera Buona Fare Delle Ottime Riunioni Fare Delle Assemblee Generali Da un'altra Forse Meno bella Un po' Più Maudoniana Andare sotto Il comune E dare Bastonate Tante Tante Bastonate Tante Va bene Liberato Russo Anche lei La stessa domanda Conclusiva E finale Che cosa Dice Cosa chiede A chi deve O dovrebbe Ascoltarla Anche io Concludo Con Un lancio Di SOS Mi piacerebbe Dire Il tempo Sta per Scadere Ma purtroppo Il tempo È scaduto Per cui Non ci resta Che Sfruttare Il tempo Supplementare Se ancora C'è E per cui Tutti Insieme Cercare Di Cercare Di arrivare Ad una Soluzione Che possa Prima di tutto Tamponare L'emergenza Ma poi Progettare Io credo Che la Progettualità In campo Imprenditoriale In modo particolare Sia di fondamentale Importanza Se manca La progettualità È difficile Andare lontano Per cui L'attesa Nostra Che è quella Di centinaia E centinaia Di imprese E che Forse Chi sta dall'altra parte Si possa In qualche modo Anche per un attimo Spogliare Del ruolo Che riveste Per scendere Dentro Le officine I negozi E cercare Di capire Veramente Ma guardando Con occhi La quotidianità Che è veramente Ridotta Ai minimi termini Per cui Se in qualche modo Insieme Possiamo recuperare Quel gap Che poi principalmente È un gap Culturale Perché se Proprio attraverso La cultura E comunque Una crescita Culturale Che arriva All'economia E quindi A un certo punto Si può trovare Una quadra E quindi Per Termoli In modo particolare Ma per tutta la regione In qualche modo Riuscire a riuscire Ad ottenere Dei risultati Dei risultati Che possono andare Anche oltre Quei dati statistici Che sono il PIL Che sono l'occupazione E tanti altri dati Che abbiamo già Estrapolato In questa trasmissione Antonio D'Ambrosio A te Le conclusioni Alle tue spalle Il monitor Descrive purtroppo Con quella Immagini Con quella Fotografia Un corso nazionale Che è Quasi completamente Vuoto Mi chiedo Se sia un fatto Ineruttabile Se ci possa essere Invece Se si possa tornare A quello che un tempo Era il corso nazionale Dove pullulavano Le attività E pullulavano Le persone che transitavano In quel luogo Io Sono rimasto Conoscendo anche Gli amici Tonino Il Liberato Favorabilmente colpito Dal loro appello E' un appello Che facendo Avendo fatto Facendo Siamo attorno Alla politica E sui fatti I processi sociali Alla democrazia Alla partecipazione E come me Anch'io Come loro Ritengo Che questa Questa è Una risposta Alla crisi C'è La fine L'auspicio Di una fine Di una classe politica Autoreferenziale Che crede Che attraverso Il mandato ricevuto Quel giorno Dai cittadini Il cittadino Scompare E quindi E' in condizione Lui di gestire Governare Come meglio Ritiene la comunità Che sia Termone Sia Larina Sia Milano Sia Facendo guasti E qui viene Come dire Enfatizzato Con le risposte Anche ufficiali Sono stato eletto Faccio quello che Mi pare Per legge Per legge Come se il mandato Attraverso L'espletamento Del mandato Scompagni I cittadini La concertazione È stato L'elemento Di sviluppo Della nazione E della comunità Vale a dire La classe dirigente Amministratori Politici Hanno fondato Le loro azioni Legislative Ed amministrative Attraverso La concertazione Non tanto Assemblearistica Ma attraverso Le rappresentanze Sindacali Di categorie O attraverso La partecipazione Dei cittadini Alla vita Democratica È fondamentale Lo sviluppo Che ha avuto Questa nazione E la crescita Civile E culturale È passata Attraverso Gli elementi Di concertazione E le buone leggi E le buone pratiche Sono passate lì A voglia Criticare il passato Siamo diventati La sesta potenza Del mondo Con questo metodo Perché c'era Una condivisione Diffusa Nel territorio Del progetto Italia Di una comunità Di un comune Di una regione Di una provincia Io Cioè Ho avuto una lezione Oggi Di grande Democrazia Dei due amici Che lui Storicamente Ha rappresentato Come dire Una categoria Anche senza titoli Ma pur avendo svolto Che è storica La sua rappresentanza Della sua famiglia Della comunità Di Termoli E lui Giovane Che ha saputo Raccogliere Un'eredità paterna Cresciuta Attraverso Un concetto Del genere E non possiamo Che essere Come dire Compiaciuti Di questa Come dire Interpretazione Della democrazia È un fatto Straordinario Ed è un messaggio Vero Non a quella scatola Ma chi ci sta Ascoltando Questa era La nostra ricchezza E si ripropone Questa ricchezza Questa è la democrazia Questo è lo sviluppo Perché ha una ricaduta Sullo sviluppo L'altro aspetto L'altro aspetto Che noi per esempio Non riusciamo più A mettere mano È il governo Delle risorse Le risorse Sono intelligenze Sono soldi Intelligenze Opportunità Cioè Coordinarci Atti amministrativi Legislative Per migliorare L'efficienza E l'efficacia Ora Non è sufficiente Quell'appello iniziale Di propaganda Siamo cresciuti Siamo sulla buona strada In quanto sono aumentate La povertà E i giovani disoccupati E la disoccupazione In generale Cioè Intorno a questo deserto Vedi che uno si eleva Per dare coraggio Immotivatamente Per un fine particolare Della sua esistenza politica Non mi riferisco Solo al presidente Della giunta regionale Mi riferisco Alla classe politica In generale Quando attorno a noi C'è un deserto E una povertà E una disperazione Di giovani Che se ne vanno Tra l'altro Aggravato Dalla crisi generale E dal discarico Che il governo Fa sugli enti locali Sui cittadini Per aumentare E fare finanza E quindi Le pressa Chi ha la partita IVA A pubblico Inbiego Ai pensionati Questa è la massa Di manovra Dove si attinge Risorse Per far fronte Alla crisi Oggettivi E impoverendo La società Aumentando le cose Noi abbiamo adesso Però Delle prospettive Se si rimette in campo La democrazia Quelle prospettive Possono dare dei frutti Abbiamo il fatto Per il sud Che è una cosa ridicola Lo dico Perché anche qui Bisogna dire le cose Come stanno Perché sono sempre I stessi soldi Non spesi Da Facciamo la cosa nostra Da Michele Iorio A qui Soldi Trite Ritrite Fanno conferenze Stampe Di cui assegnano 20 milioni A una parte Ma sono sempre Michele Iorio A sua volta Aveva fatto la conferenza Stampe Con il sindaco Precedente Dove firmavano Accordi Adesso no Però È stato codificato C'è il patto Per il sud C'è una somma Di risorse Finanziari Anche per la nostra Regione Che sono Importanti Bisogna vedere Come queste risorse Che sono 727 milioni Di euro 727 milioni Di euro Perché il bilancio Della regione Approvato l'altro giorno È una cosa Misera Cioè la città Di qualsiasi città Sansevero È il bilancio Di Sansevero Manca di foccia Insomma È un bilancio Di Sansevero 100 mila euro Per la cultura 200 mila euro Per quella E siamo tutti Spremuti Dai balzelli Oramai abbiamo Le aliquide Più grosse È una decadenza Sulla sanità Questa è la sanità Dobbiamo tornarci Su quello che è successo La sanità È una cosa terribile Però ecco Tornando Abbiamo 727 milioni Di spesa pubblica Da immettere Per opere pubbliche Per infrastrutture Per attività E Quando si diceva La strada Com'è Questo È un'opportunità È il territorio Ha bisogno Di quel processo Di democrazia Che è la concertazione Per vedere Come Dove Allocare Le risorse Come E quando Sulla programmazione Di questi soldi Sulla programmazione Dei fondi europei Sulla Compartecipazione E Speriamo Che vada In porto Anche L'area di crisi Dove ci saranno Delle risorse Noi abbiamo Un pacchetto Di risorse Finanziarie Non per gestire La prossima Campagna elettorale E questo È la partecipazione Ma per Programmare Lo sviluppo Della nostra Regione È l'ultimo Momento Prima del canto Del cigno Che diceva Tonino Se questa Regione Perde L'opportunità Di Saper investire Questi soldi Nelle aree Nei territori E nelle categorie Quindi orizzontale E verticale Che meglio Possono Tradinare Lo sviluppo E nei servizi Perché io Metterei sempre La questione Sociale Noi Abbiamo Finito Come regione Ma abbiamo Finito anche Come uomini Nel senso Che non abbiamo Le opportunità Più di poter Mettere in campo Ora Conoscendo Se qualche politico Sta ascoltando Di come ragionano Guai a pensare Che questa È la risorsa Da mettere in campo Per movimentare Un po' di categorie E farci La campagna Elettorale Sopra E allora Perciò Quando ascoltate Il vostro appello Alla partecipazione Al contributo Volontario Che viene dato Attraverso La concertazione È uno degli appelli Più forti E più necessari In questo momento Per consentire Un percorso Di sviluppo Altrimenti La partita È chiusa Perché Due aziende Stanno nel Molise Meno male La Fiat Che pensavamo Che potesse andare Di là Di qua E invece Ha rinvestito A Termoli E nel Molise Ha dato Una stabilizzazione A quei lavoratori Anche giovani Occupati Giovani Nuovi Che stanno assumendo Sì Stanno assumendo Meno male E quella è stata Una cosa Come dire Santa Venuto Nel nostro territorio E anche per la regione Perché non riguarda Solo Termoli L'altra Questa ripresa Di esportazione Dell'agroalimentare In particolare Scusa Faccio pubblicità La Molisana Che sta trainando E per fortuna E per fortuna Che questa azienda Come dire È stata ripresa In questo modo Dalla famiglia Ferro E sta portando avanti Delle nuove opportunità Di investimento Di qualità E sta conquistando Giorno per giorno I mercati Fa salire Le opportunità In due settori Che si stanno stabilizzando Ma non è sufficiente Perché Contemporaneamente Se non Quei soldi Non li investiamo Diversamente Quelli che ci devono arrivare Sta aumentando La povertà Una su tre Sta nell'aria Della povertà Un cittadino Molissano su tre Sta sulla povertà Sta aumentando La soccopazione giovanile Stiamo perdendo Le intelligenze Che stanno andando fuori E quindi Sarebbe Un arido territorio Dove Tonino Sarà l'ultimo Canto del cino Di questa Non per età Anche per l'età Non per età Per intelligenza Per intelligenza Perché hai saputo leggere Attraverso il tuo lavoro Ciò che è necessario fare Ed è un appello E si può Andora fare E perciò ti sto dicendo Perché abbiamo Una vera Congreta possibilità Non si vuole Ma non si vuole Ma non si vuole Ma non si vuole Ma questo Questo lo sapreste Ci vuole un altro rendezvous Non si vuole fare Allora dobbiamo dire ai nostri ascoltatori Telespettatori Dobbiamo dire Attenzione È anche vostra la responsabilità Se non usciamo fuori Da questo Sistema Ecco E con questa Conclusione Insomma Che lascia aperto Uno spiraglio Termina la puntata Odierna Di Millibar Di che cosa Abbiamo parlato Abbiamo parlato Della crisi Fortissima Che vivono Le imprese artigiane I commercianti La stessa La stessa industria E abbiamo parlato Con particolare Riferimento A questo nostro territorio Di elezione Che è Termoli Lo abbiamo fatto Insieme A Liberato Russo Che è il Il segretario regionale Della casa artigiani Molise E vicepresidente Della camera di commercio Lo abbiamo fatto insieme Ad Antonio Mautone Che alla lunga esperienza Di commerciante Ne aggiunge un'altra Quella di essere stato Per dieci anni Il presidente Di confcommercio Ci lasciamo Con questa Apertura Con questa speranza Perché come ha ricordato bene Antonio D'Ambrosio L'appello fatto Dai due ospiti È importante Perché nonostante Le critiche Che sono state fatte A chi amministra Sia a livello regionale Che il livello Locale A questi ultimi Ribadisco Ancora una volta La porta di casa nostra È aperta Per eventuali Repliche O dibatti Di questo appello Alla concertazione Cioè che cosa dicono In buona sostanza I rappresentanti Dei commercianti E degli artigiani Noi ci siamo Scendete Le scale del palazzo Ritorniamo A dialogare Allora quel corso Che i nostri monitor Ci fanno vedere Vuoto Quasi abbandonato A se stesso Potrebbe Ripopolarsi La canzone Che abbiamo usato Per la nostra copertina È la canzone Di Simon & Garfunkel Famosissima Che parla Del suono Del suolo Del silenzio In effetti Passeggiando per Termoli Questo silenzio Purtroppo Lo si avverte Ci auguriamo Di poterne usare Un'altra Il mio canto libero Di Battisti Che un domani Ci potrà consentire Di fare Una puntata Di Millibar Dove si parlerà Di ripresa Noi ci fermiamo qui Torniamo mercoledì prossimo Alle 21 In replica Alle ore 16 Il giovedì Sempre Su Tele Molise Da Alessandro Nardella In regia E da me Buonanotte E buona fortuna 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 E buona fortuna